Nelle due lezioni precedenti abbiamo parlato di come determinare le proiezioni ortogonali di una retta a partire dalle sue tracce, limitandoci però al solo caso di una retta che si trova nel primo diedro. Se questi video vi sono sfuggiti, potete ritrovarli ai link riportati nella descrizione qui sotto. Dei diedri retti si è invece parlato in un altro video ancora, ma anche di questo video si riporta il link nella descrizione qui sotto. È consigliabile vedere questi video prima di guardare quello presente, in quanto necessaria la comprensione dell'argomento che tratteremo. In questa lezione parleremo infatti di come rappresentare una retta in proiezioni ortogonali quando essa si trovi in uno qualsiasi dei quattro diedri dello spazio. In realtà, essendo infinita, una retta attraversa normalmente dai due ai tre diedri dello spazio. La nostra analisi si limita dunque alla parte di essa, compresa tra le sue tracce. Nella nostra trattazione, non considereremo inoltre le proiezioni della retta sul piano laterale PL. Assai raramente è richiesta la proiezione della retta su questo piano, specialmente quando essa si trova al di fuori del primo diedro. Dallo studio delle proiezioni ortogonali del punto, sappiamo che la prima proiezione di una qualsiasi entità geometrica è positiva se essa si trova sotto la linea di terra. Viceversa, la seconda proiezione di una qualsiasi entità geometrica è positiva se essa si trova sopra la linea di terra. Una retta che si trova nel primo diedro ha dunque la sua prima proiezione, quella sul PO, sotto la linea di terra, cioè positiva, mentre la sua seconda proiezione, quella sul PV, si trova al di sopra, cioè positiva anch'essa. Lo stesso dicasi per le sue tracce. Poiché la prima traccia T1 giace sul PO, essa deve trovarsi sotto la linea di terra, per essere positiva. Viceversa, la seconda traccia T2 giace sul PV, quindi deve trovarsi sopra la linea di terra, per essere positiva. Se la retta si trova nel primo diedro, entrambe le tracce, come è possibile vedere dal disegno, hanno proiezioni positive. Infatti, la prima traccia è positiva, cioè si trova sul semipiano orizzontale anteriore, e la seconda traccia è positiva anch'essa, cioè si trova sul semipiano verticale superiore. RETTA NEL SECONDO DIEDRO Una retta che si trova nel secondo diedro ha la sua prima proiezione, quella sul PO, sopra la linea di terra, cioè negativa, mentre la sua seconda proiezione, quella sul PV, si trova al di sopra anch'essa, cioè positiva. Come è possibile vedere dal disegno, la prima traccia ha proiezioni negative, perché si trova sopra la linea di terra, e quindi sul semipiano orizzontale posteriore, quello negativo. La seconda traccia si trova invece sopra la linea di terra, e quindi sul semipiano verticale superiore, quello positivo, pertanto ha proiezioni positive. Il fatto che una retta si trovi in un diedro diverso dal primo, non cambia però di una virgola il metodo per determinare le sue proiezioni a partire dalle tracce, né tantomeno cambia il metodo per determinare le tracce a partire dalle proiezioni della retta. RETTA NEL TERZO DIEDRO Una retta che si trova nel terzo diedro ha la sua prima proiezione, quella sul PO, sopra la linea di terra, cioè negativa, mentre la sua seconda proiezione, quella sul PV, si trova al di sotto, cioè negativa anch'essa. Come è possibile vedere dal disegno, la prima traccia ha proiezioni negative, perché si trova sopra la linea di terra, e quindi sul semipiano orizzontale posteriore, quello negativo. La seconda traccia si trova invece sotto la linea di terra, e quindi sul semipiano verticale inferiore, quello negativo, pertanto ha proiezioni negative. Ancora una volta, il fatto che una retta si trovi in un diedro diverso dal primo, non cambia però di una virgola il metodo per determinare le sue proiezioni a partire dalle tracce, né tantomeno cambia il metodo per determinare le tracce a partire dalle proiezioni della retta. RETTA NEL QUARTO DIEDRO Una retta che si trova nel quarto diedro ha la sua prima proiezione, quella sul PO, sotto la linea di terra, cioè positiva, e la sua seconda proiezione, quella sul PV, si trova al di sotto anch'essa, cioè negativa. Come è possibile vedere dal disegno, la prima traccia ha proiezioni positive, perché si trova sotto la linea di terra, e quindi sul semipiano orizzontale anteriore, quello positivo. La seconda traccia si trova invece sotto la linea di terra, e quindi sul semipiano verticale inferiore, quello negativo, pertanto ha proiezioni negative. Ancora una volta, il fatto che una retta si trovi in un diedro diverso dal primo, non cambia però di una virgola il metodo per determinare le sue proiezioni a partire dalle tracce, né tanto meno cambia il metodo per determinare le tracce a partire dalle proiezioni della retta. Se questo video vi è piaciuto, potete trovare la trascrizione di questa lezione nel mio blog dedicato al disegno tecnico. Sempre nel blog sono presenti tantissime altre lezioni, e tanto materiale didattico da scaricare. L'indirizzo è aliceappunti.altervista.org.blog Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante, questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.